L'amico francese, altri non è che François Mitterrand, l'ex presidente della Repubblica francese, il primo a portare la sinistra al governo nell'Europa occidentale che con Cortone aveva uno stretto legame, visto che da sindaco ci aumentò un gemellaggio tra la città che amministrava Chateau Chinon e la città etrusca. Tito Barbini era sindaco di Cortone in quei tempi e grazie a quell'amicizia ci racconta della grande occasione che la sinistra italiana sprecò in quel periodo. L'occasione per saperne di più il prossimo 20 febbraio con la presentazione del libro nella sala medicea del Maic. Perché ho scritto questo libro? Perché oltre a ricordare un'amicizia importante, tanti episodi, anche incontri che ci sono stati poi anche negli anni successivi quando Mitterrand è diventato presidente della Repubblica francese, perché racconta di un'occasione mancata. Un'occasione mancata è quella che nel 1978 vedeva la possibilità di un incontro tra Enrico Berlinguer e Mitterrand a Cortona, un incontro che io avevo preparato su richiesta di Berlinguer e questo incontro non ci fu, non ci fu perché il Partito Socialista, ma in questo caso Craxi, saputo di questo incontro, cercò in qualche modo di farlo saltare. Questo è un libro molto personale e racconta anche però dell'amicizia con un uomo. Io ero presidente ai funerali a Parigi di Mitterrand, forse l'unico toscano a Notre Dame, c'era Occhetto, c'era Napolitano, c'erano i capi di Stato del mondo e l'altro episodio che racconto è che a me ha molto impressionato, sono state le lacrime di Helmut Kohl.